Vediamo ora una panoramica delle principali funzioni del SuperCombi S. Allora, una volta acceso lo strumento, ci viene proposto il menu generale con l'elenco delle varie prove e delle varie impostazioni. Vediamola un attimo in una breve panoramica. Abbiamo la prova automatica, quindi la prova classica in sequenza di resistenza globale di terra e CD isolamento. Abbiamo la funzione multimetro, continuità del conduttore di protezione con corrente 200 mA, continuità a 10A con l'accessorio opzionale Equitest, misura di isolamento fino a 1000 volt, verifica dei differenziali A, AC, F, B e B+, misura di impedenza dell'anello di guasto di corrente di cortocircuito, misura di impedenza dell'anello di guasto ad alta precisione attraverso l'accessorio IMT57, quindi in questo caso attraverso questo accessorio possiamo andare a fare misure di impedenza in situazioni dove abbiamo valori di impedenza molto piccoli, normalmente quando siamo in possibilità della cabina di trasformazione. La misura della sequenza fase e senso ciclico, la misura della corrente di dispersione con un trasduttore di corrente opzionale, la misura dei parametri ambientali quindi temperatura, lux con i vari accessori opzionali, la misura della caduta di tensione, una misura di analisi di rete e armoniche in tempo reale, la misura diciamo la sequenza EVSE ovvero la sequenza di verifica del funzionamento e della sicurezza delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici attraverso l'accessorio evtest100. Adesso andiamo a vedere questi tre menu nel dettaglio. Abbiamo il menu di impostazioni, entriamo dentro, troviamo la lingua, ovviamente noi impostiamo in italiano, abbiamo tutte le altre varie opzioni, il paese, questo individua l'area geografica nella quale ci troviamo. In questo caso ovviamente noi abbiamo selezionato Europa perché ci troviamo in Italia, ma se ci dovessimo trovare a fare misure in particolari paesi quali questi riportati, dobbiamo andare a selezionare la relativa area geografica perché alcune alcune prove, alcune parametri possono essere modificati in funzione dei requisiti normativi di quel paese. Il sistema elettrico, nella prima riga andiamo a definire qual è la tensione nominale del nostro impianto, come vedete abbiamo tutte le varie opzioni anche dei sistemi bifase e americani, in questo caso il nostro sistema è a 230 in Italia normalizzata, la frequenza di rete tra 50 e 60 Hz, il tipo di distribuzione ovvero un sistema fase neutro terra o un sistema fase fase terra ovvero un sistema bifase split phase, in questo caso noi abbiamo un sistema monofase quindi lasceremo monofase. Il tipo di distribuzione ovvero un sistema TT, TN quindi un impianto con una cabina propria e un sistema IT, quindi quel sistema particolare ad esempio come quelli dell'ambiente ospedaliero. La tensione di contatto massima quindi per le prove di sicurezza elettrica che per gli ambienti standard, ambienti generici a 50 volt, mentre 25 volt per ambienti particolari special modo quelli ad uso medico. La visualizzazione della corrente di rcd che può essere normale o reale, questa funzione va a definire durante la prova a rampa di rcd, in particolare di tipo A che ha una forma d'onda di tipo impulsivo, lasciando come corrente nominale verrà visualizzata la corrente rms scalata in funzione della corrente nominale del dispositivo. Andando a selezionare invece il valore reale verrà visualizzato il valore di corrente di pico quindi moltiplicato per radice di 2. Questa ultima opzione è un'opzione che permette per alcuni paesi andando a selezionare la funzione rccd di effettuare la prova a rampa per 5, quindi con una corrente per il rcd da 30 mila ampere moltiplicata per 5. Andiamo a vedere le altre impostazioni, quindi le impostazioni generali, abbiamo l'auto power off quindi la possibilità con dello strumento di spegnersi automaticamente dopo un periodo prestabilito, i suoni della tastiera e l'auto start di rcd loop ovvero quando lo strumento riconosce la tensione avvia automaticamente la prova. Abbiamo ovviamente le classiche impostazioni data e ora, le informazioni quindi il nome dello strumento, il costruttore, il numero seriale, la data di calibrazione, firmware e hardware, informazioni molto importanti nel caso doveste contattare il servizio di assistenza tecnica DHT, sono informazioni sempre molto importanti da riferire ai tecnici con i quali si sta parlando. Torniamo nel menu, come impostazione successiva abbiamo l'impostazione del nome operatore, usciamo da questo menu e andiamo a vedere ad esempio i dati memorizzati, qui dentro trovate l'elenco delle prove eseguite, come potete vedere ci sono 54 prove eseguite, vedete il tipo di prova eseguita e la data, è possibile andarle a richiamare a display in questa maniera e quindi vedere l'esito i vari dati. È possibile avere uno scorrimento veloce tramite la selezione della pagina e liberare la memoria cancellandola totalmente o cancellando l'ultima misura. Come potete vedere lo strumento ha ancora 945 posizioni libere perché può registrare fino a 999 misure. L'ultima impostazione che andiamo a vedere è quella per il trasferimento dei dati, quindi selezionando PC con fermiamo con Enter. Come potete vedere adesso lo strumento sta avviando la connessione Wi-Fi quindi da questo momento in poi è possibile stabilire una connessione Wi-Fi con l'Hotspot generata dallo strumento e connettersi al PC per lo scarico dati o in alternativa è possibile connettere il cavo in dotazione, il cavo ottico C2006 e connettersi via USB al PC per lo scarico e la gestione dei dati in memoria. Grazie per la visione!